ragazzi buongiorno a tutti questo è il sonoff mini r2 mi diretto a fare una piccola modifica da 220 a passarlo a 5 volt in corrente continua così creando anche un contatto pulito senza dover modificare la scheda e questa la scheda questo è il lato posteriore della scheda del sonoff mini abbiamo una serie di sigle potete vedere bene in realtà noi dovremmo solamente andare a saldare due fili consiglio dei fili in rame sottili per saldare essendo che i contatti sono molto molto piccolini se vedete bene qui ci si è scritto 3v è un contatto a 3 volt barra 5 volt funziona benissimo e ci andrà il positivo in realtà per comodità potrei anche prendere il negativo qui su ground però stanno molto vicini l'uno all'altro e quindi non non è comodo il positivo lo vado a prendere qui sui 3 volt mentre il negativo lo vado a prendere sull'uscita s out così facendo praticamente abbiamo ottenuto un sonoff mini r2 con tensione in corrente continua di 5 volt e con un contatto pulito e la possibilità ovviamente sui contatti s1 s2 di poter mettere un pulsante un interruttore un debiaturo quel che sia nel caso si voglia ma nel nostro caso perché rimangono invariati in al nostro caso io lo utilizzo per aprire un cancello quindi è una modifica che rende tutto molto più facile molto più comodo se sono stato di aiuto o quantomeno ho dato qualche informazione in più io vi ringrazio e se volete mettete un like alla pagina grazie